io innanzitutto volevo esordire con la classica domanda del i primi timidi passi nel mondo dell'hip hop che cosa successe e perché allora successe che ci si scambiava le musiche a 7 alle scuole medie io portavo sempre gli antrax piuttosto che ci andavo dagli antrax agli ski drone si capiva bene un po un po di hard rock qualche roba tamarrissima che mi passavano i miei amici di periferia di cesate e poi arriva questo ragazzo qui con una cassetta chiamata apocalypse 91 dei public enemy che ma c'è da basta proprio basta qualunque altra cosa basta c'è i can trust it no esatto esatto che poi figurati c'era anche il pezzo con gli antrax bring the noise quindi io già ero agganciato quel filone per colpa dello skateboard basta è stato proprio amore al primo ascolto assolutamente troppo diverso da tutto il resto che mi sentivo aveva un cos'era cosa le canzoni tamarre aveva quella carica del rock aveva tutto ma tutto diverso cos'era l'arresto che ti sentivi quello che andava per la maggiore di base cioè ascoltava un sacco di di robe di commercio alla latte che passava la radio e poi tutte le robe che gravitavano attorno al mondo dello skate quindi rock punk rock grind tutte queste suicidal tendencies via di scena è interessante tu pensi che questo sia un normale processo di educazione all hip hop cioè nel senso c'è molta gente che in italia è venuta dalla punk new wave eccetera tutti riconosci in questo e pensi che sia normale cioè che sia una parte dell'evoluzione che molti giovani hanno avuto ma guarda nel periodo in cui ho iniziato io sì penso che fosse abbastanza normale nel senso che forse quel genere lì era un po la musica che si andava cercando quando si rifiutava tutto quello che era mainstream cioè quando quando cominciavi ad andare a scavare un po si presentava quella roba lì poi molti dei miei coetanei andavano in skate io sento molti molti ragazzi molte persone della mia età o anche un po più giovani che comunque sono avvicinate all hip hop tramite lo scambio di cassette durante l'epoca dell'età dello skate quindi sì insomma era una roba che che succedeva forse diciamo quel momento lì lo skate era un po diciamo quello che è successo alla break negli anni 80 forse che ha avuto quel momento di esplosione incredibile quindi molti sono partiti poi da quel filone lì credo e quindi poi dopo da diciamo da da quell'album dei public enemy che rappresenta secondo me già un periodo maturo della loro militanza politica tu che cosa hai iniziato a fare esattamente qual è stata la la molla che ti ha spinto a fare le prime cose le compagnie gli amici la priu eccetera allora si fai conto che io ho iniziato prendevo il treno tutte le mattine e vedevo pezzi ovunque sui treni sui muri nella pratica diciamo nell'ascolto iniziato con i public enemy nella pratica ho iniziato sbozzettando su su vari quaderni e prendendo spray a caso nei colorifici e andando in giro sui muri un po in linea così però era una roba che facevo prettamente da solo poi ho scoperto che in classe mia al liceo c'era altra gente che ascoltava lo stesso genere che gravitava attorno diciamo a queste robe qua che mi piacevano ma ancora non conoscevo come hip hop erano robe che mi piacevano semplicemente e poi ho cominciato invece a farlo in maniera sistematica quando ho conosciuto le prime persone diciamo attraverso questa cosa qui no quindi non perché erano miei compagni di classe o amici che avevo conosciuto ma attraverso quello che facevo conosciuto delle altre persone e quindi ho imparato a riconoscere poi sai le discipline classiche che tutte facevano parte di una roba più grande via dicendo e galeotta fu un'assemblea di istituti o galeotta fu un'autogestione nella quale arrivò questo ragazzo di saronno di nome scream che è uno dei miei primi mentori e che mi parlò ampiamente diffusamente di questa roba qui conosciuta come hip hop e lì insomma mi si è aperto un mondo fai conto e poi scava 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 ecco e quindi diciamo in in che anni di che anni stiamo parlando scusa se perché io per me le cronologie il dito che ti devo metterlo devo metterti nel libro quindi ti parlo già degli avanzati 90 quindi fai conto che la prima cassettina mia prodotta da tutta la crew come lavoro corale era del 96 quindi l'epoca di cui ti ho parlato finora diciamo dal 92 al 94 più o meno poi dopo di questo diciamo cosa ha iniziato a fare in maniera proprio professionale diciamo e quali sono state le difficoltà tecniche incontrate a fare quello che è stato il balzo in avanti secondo te allora fai conto che l'epoca in cui è passata dall'essere una passione di un ragazzotto di provincia qualcosa di più concreto è stata l'epoca di bologna io ho studiato lì per una decina d'anni e lì non è che dici ok sì mi piace fare la musica tra la lava da prendere le farfalle lì in bologna c'era la situazione o dentro o fuori e se vuoi stare dentro vai pedala forte no è quella roba lì per me è stata un bello stimolo fino ad arrivare diciamo ai miei primi dal mio primo prodotto ufficiale ho fatto una serie di demo continuato a fare una serie di demo con la crew che aveva a bologna che si chiamava horror vacui e poi c'è stata diciamo la stagione del to the beat dalla quale poi ho incominciato a pensare al primo mio lavoro ufficiale che si chiamava ipnosi collettiva ci hanno pensato a farlo solamente dopo aver capito che potevo starci dentro e potevo pedalare forte insomma da cosa l'hai capito da cosa l'hai capito questo nel dettaglio qual è stato il punto ho la ragione per questo sì io posso stare con le mie gambe in piedi in questo ambiente il confronto il confronto fai conto che per me c'è stata tutta la prima stagione quando io non ero ancora a bologna dove vedevo di base questi miti questi mostri sacri inarrivabili che erano praticamente tutto il panorama dell'ipopo italiano classico dopodiché quando ho cominciato invece a conoscere qualcuno di loro a confrontarmi scambiare idee ho capito che senza presunzione potevo anch'io dire la mia dare nuovi spunti stimoli e via dicendo e quindi in quel momento ho detto ok posso fare una roba perché voglio aggiungere la mia visione questa roba qui non perché semplicemente sono un appassionato o amo questa cosa roba lecita però insomma mi sentivo in dovere di poter reggermi e capisci quindi scusa il tuo primo lavoro quando esce e che cosa è che che impatto ha diciamo sulla diciamo sulla sull'ambiente circostante allora mio primo lavoro musicale esce nel 2011 l'11 settembre 2011 che si chiama ipnosi collettiva ed è stato il mio primo cd edito da relief records in quel momento lì considera che relief era penso l'etichetta col catalogo più potente in assoluto del panorama perché c'erano dentro i vari clementino paura in occhi c'era dentro schiso insomma un discreto catalogo perciò essere ed è questo il momento in cui vi siete conosciuti tutti quanti o vi conoscevate già da prima soprattutto con schiso con in occhi allora no a fabiano lo conoscevo già da prima perché ci trovavamo a piazza maggiore a fare le rime quindi lo conoscevo già da prima ma schiso penso che probabilmente l'ho conosciuto dopo con tutti gli altri ci si conosceva già da prima fai conto e niente facendo questo facendo questo disco qui ho voluto affermare la mia presenza fai conto che l'ho fatto in collaborazione con da night skinny completamente da lui nel suo studio collaborando con vari beat makers e insomma volevo un po affermare affermare la mia visione circondandomi di un sacco di persone che che rispettavo anche tra i miei miti per esempio fai conto che 22 bit del mio disco sono stati fatti da day day chaos in combo col nome brutto il bit e insomma per me è stata è stata una conferma del insomma della mia visione cioè quelli che erano i miei miti sono diventate delle persone con cui ho collaborato e le altre delle quali mi sono circondato erano persone che che avevano qualcosa da aggiungere anche loro vedi poi tutto il percorso che ha seguito the night skinny post pre e post il mio disco perché avevamo fatto insieme anche metropolis stepson che il suo primo disco ufficiale se vedi nella tracklist io sono il maggior azionista per quello che riguarda i fatti di rap su quel disco e quindi diciamo mi sono dotato di di un bel car armato corazzato per poter fare una roba che rimanesse quanto meno diciamo che non è stato un beng a livello di vendite ma purtroppo nella mia formazione professionale a me piace sempre fare quello che non va di moda io sono un ricercatore delle robe e delle robe che nessuno fa cioè tipo che ne so la roba anticon e death jacks e rocus in tempi non sospetti me lo andavo a cercare andavo matto no quindi anche la mia produzione poi che la e la e lo specchio un po dei miei gusti musicali della roba che mi ascolto dicevo non è stato un botto a livello di vendite però diciamo che tante persone mi hanno dato dei feedback importanti anche all'interno del panorama del genere certo e innanzitutto che atmosfera regnava in studio quando tu dici collaboravo con i beat questa collaborazione si estendeva proprio al mettere le mani sugli strumenti assieme ai programmatori o si si limitava semplicemente ad una scelta di gusto come dire no preferisco il clap preferisco lo snare senza al clap e qualizzano così e qualizzano con la etica allora no io fai conto che non ho una formazione professionale su tutto quello che riguarda il fare beat cioè io produco ma in maniera molto intuitiva mi diverto con le macchine eccetera perciò diciamo che ho lasciato carta bianca ai produttori che nella maggior parte dei casi invece mi hanno cucito il beat sul testo cioè io andavo lì con con delle idee o delle liriche magari una strofa già pronta eccetera e dicevo guarda ho questa roba qui da sottoporti perché secondo me potrebbe potrebbe essere nelle tue corde e via dicendo come è stato per esempio nel caso di lugi si nel caso di lugi gli avevo fatto sentire il testo della canzone che si chiama m e lui mi ha dato una roba mega soul mega soulful le due cose si sono sposate a livello di produzione come ti dicevo lasciato realmente carta bianca perché non ho la competenza tecnica diciamo ti posso dire se il beat incontro al mio gusto meno ma non mi permetto di andare cioè più al di là ed è una cosa che dico ho imparato lavorando alla copertina del disco perché cazzi volevo mettere bocca a tutti i costi sulla copertina invece nel momento in cui ho smollato il colpo e ho lasciato il grafico che è massimo può lavorare come voleva lui è uscita la bomba allora ok questo sarà il mio metodo di lavoro arriva fin dove puoi poi il resto lascia i professionisti certo e si è di fatti più o meno così ecco anche poi vabbè varia secondo e io voglio sapere lo studio dove hai lavorato gli studi dove hai lavorato erano tutti studi diciamo di un certo tipo o erano più che altro studi domestici c'erano studi di carattere proprio professionale che venivano affittati per la recording e poi per il mixaggio oppure erano proprio i posti dei bit maker in cui tu andavi a registrare allora considera per quel lavoro lì ufficiale ovviamente per dargli un'impronta come dire solida ho fatto tutto da night skin nel corso invece della della mia evoluzione mi è capitato sin da subito di lavorare in studi piuttosto come dire ben messi no nel senso che c'era questo ragazzo qui che c'erano due persone uno che è da bolti e uno che è ns che proprio mi venivano a prelevare a saronno con la macchina mi portavano a legnano quando io ancora stavo veramente facendo i primi esperimenti primi passi e questi due ragazzi avevano uno studio che non era un studio era proprio un bello studiolo autocostruito per carità però con tutti i crismi del caso tanti altri progetti invece io gli ho portati avanti in un studio e poi ovviamente si spedivano le tracce separate a chi aveva i macchinari ed era in grado di gestire un mix e un mastering meglio di quanto potessimo fare noi la mia ultima fatica per esempio dram machine è stata registrata tutta in una camera da letto per dirti la scusa la sua la tua camera da letto o quella del beat maker quella di blog e che non è neanche lui il beat maker perché a poche che ha fatto tutti i beat ma insomma blog via una buona scheda audio è un microfono che spinge e quindi abbiamo deciso sì perché no poi insomma sai siamo comunque la roba è stata fatta nel 2015 quindi dai a questo punto se uno ha un buon orecchio e quei buoni accorgimenti si riesce comunque ad arrivare un prodotto che che sia a un livello di ascoltabilità buono insomma ecco quali sono secondo te i bit me voglio sapere su tutti i bit maker che hanno lasciato un segno nella tua memoria cioè quelli che secondo te sono che hanno lavorato con te che sono veramente storici da un punto di vista individuale soggettivo allora uno su tutti night skinny ovviamente abbiamo lavorato insieme per tantissimi anni a più riprese ci sentiamo anche oggi e guarda lui secondo me è quello che ha saputo raccogliere un'ottima lezione nel senso che io ho conosciuto che era un pischello attraverso attraverso il mio coinquilino di bologna e l'ho visto salire a milano fare il suo corso per tecnico del suono professionalizzarsi e diventare insomma uno standard perché oggigiorno non si può dire che non lo sia è diventato uno standard e in tutta in tutta la sua produzione devo dire che nonostante ci siano robe che incontrano il mio gusto e altre che non lo incontrano comunque il suono è sempre di qualità perciò direi che colui diciamo è quello con cui ho sviluppato il feeling più forte in assoluto ecco ecco una cosa che ti facilita molto la registrazione ad esempio è quando in studio ti viene creato un beat che ha un tiro funk oppure quello che è più importante per te è il suono più che il tiro o una combinazione delle due cose qual è il tipo di sound che ti dà più la voglia di esprimere il suo testo su di esso? dipende dipende dal momento dallo stato mentale da quello che mi sta girando in testa da tempo fai conto che una roba di cui vado particolarmente fiero che mi è stata detta è da F Fiume mi ha detto che ho un range molto molto ampio di cavalcamento beat nel senso che riesco ad andare al posto con disinvoltura dal funk classico fino alle sonorità più contemporanee realmente dipende cioè ultimamente mi è capitato anche di lavorare su una base quasi trap completamente fatta di synth e mi piace sperimentarmi fai conto che non so anche nel mio gusto musicale comunque spazio molto mi piace Joy Bedesco, Mayrand, Jules piuttosto che cerco di non limitarmi cerco anche di sperimentarmi poi magari esce una vaccata e allora la cantono però mi piace mi piace seguire l'onda quindi tu stai riuscendo con successo ad adattarti alle sonorità contemporanee cioè non provi una spaccatura tra quello che è quello che hai assorbito all'inizio della tua carriera e quello che effettivamente si sta trasformando a livello proprio di stilismo musicale nel mondo guarda devo essere onesto e dirti che comunque faccio un po' fatica a stare appresso a delle robe che non mi appartengono ma dipende più da realmente dal gusto musicale che dal tempo secondo me cioè nel senso che la grossa distinzione che faccio solitamente è tra roba di qualità e musica di merda però anche lì fino a un certo punto poi si rientra sempre nel campo del gusto è quello che io faccio fatica nei miei episodi cerco di limitare queste descrizioni al minimo perché proprio so che parlo io se parlassi un altro probabilmente avrebbe un altro gusto siamo tutti prigionieri di noi stessi in questo senso però sai cosa guarda a me ti dico lavorando a fianco delle nuove generazioni comunque questa roba qua è una roba dalla quale non posso prescindere perché nel momento in cui io cerco di come dire imporre un gusto o una qualità li ho già persi perciò io mi devo confrontare comunque cioè non è detto che anche se stiamo parlando di due robe che hanno chiamiamolo un valore musicale una concezione una struttura completamente diversa come può essere non so una roba cazzo super barocca zigogolata e lavorata che mi ascolto io è una roba super semplice fatta con gli stecchini del ghiacciolo che si ascolta un altro non è detto che il valore di quella cosa lì sia diverso comunque per ognuna delle due persone hai capito? certo ma sicuramente ma tra le altre cose tu hai l'impressione che diciamo più si va avanti più la musica viene semplificata oppure riconosci che cose barocche e zigogolate possono essere anche prodotte dalle nuove generazioni? no non è l'accordo a parte da un presupposto che stiamo muovendo in un campo che è veramente quanto l'universo perciò qualsiasi linea che venga tracciata che va al di fuori della prassi è cosa buona per me come ti dicevo prima mi sono sempre andato a cercare le robe che nessuno faceva appositamente perciò non ci sono limiti cioè chiunque anche chi ha prodotto delle robe super ricercate può produrre una roba semplice che però spacchi e sia mega comunicativa così come è possibile ed efficace anche un percorso diametralmente opposto penso che non ci siano limiti poi la roba che diventa efficace insomma è sempre quella ma no anche questa cosa non è detta perché a volte è efficace anche la roba buttata lì a cazzo che viene per caso perciò non ho mai detto niente il fatto è che non si sa mai cioè quando uno fa le cose non sa mai quello che avrà più successo e quello che avrà meno successo e come la spieghi tu? prego prego dimmi scusami la roba dell'onestà secondo me è fondamentale cioè se uno fa le robe perché gli escono naturali e gli piace ovviamente è una banalità del cazzo no? però sai cioè esiste anche il forzato che poi va cioè magari uno si forza a fare una roba e poi wow viaggia hai capito? non lo so per quel che mi riguarda la roba visto che comunque non ho un capo che mi sculaccia se non faccio il mio dovere faccio il cazzo che mi piace vado sempre nel giusto capito? certo certo e senti cosa ne... potresti darmi dei dettagli sulla tua conoscenza e del rapporto che hai avuto con Schiso le esperienze e le cose che vi siete scambiati soprattutto visto che eri in un invito di una cosa molto importante poi sicuramente ne hai fatte molte altre ma vorrei che mi dettagliassi un pochino il vero nucleo dell'hip hop in questo senso cosa se ne prova a farne parte il tipo di situazioni che avete incontrato soprattutto nei live in questi eventi diciamo il tipo di esperienza che hai fatto anche tu con questi grandiosi professionisti enormi diciamo dell'hip hop italiano allora considera che come ti dicevo prima prima di relazionarmi con queste persone io ho avuto bisogno di formarmi prima di tutto nel senso che formarmi come persona e come artista i due percorsi vanno proprio di pari passo dopodiché quando è stato il momento di prendere delle mie decisioni importanti come ad esempio quella che vedi qui alle mie spalle di fondare la Street Arts Academy io mi sono proprio relazionato con Schiso sono proprio banalmente andato nel suo studio e gli ho detto guarda Schiso io sto provando a fare questa cosa cosa ne pensi? in che anni scusa questo più o meno? in che anno è successo? ti ricordi? 2013 ci siamo costituiti nel 2014 sì è roba recente è roba recente e niente gli ho spiegato un po' qual era il mio progetto il fatto di lavorare con i ragazzi di fare della formazione di trasmettere le robe le robe che stavo facendo di continuare ad approfondire la mia ricerca ovviamente per poi trasmettere per poi trasmetterla alle nuove generazioni e lui niente il consiglio che mi ha dato che è stato fighissimo è stato ok tu vai avanti sulla tua strada poi se arriverà un riconoscimento vai avanti sulla tua strada e quello per me è stato come dire un rinforzo anche al mio discorso perché una delle persone che io avevo come punto di riferimento nelle robe che facevo ha apprezzato il mio sforzo per stare in piedi e da lì in poi sono nate una serie di robe in cui sono stato coinvolto come per esempio l'hosting di una delle finali del DMC come l'evento il primo Videra Roby Square e insomma ho sentito sulla pelle sotto pelle e anche diciamo nel midollo spinale tutta l'energia che può passare in eventi di questo tipo perciò diciamo che anche quali sono stati un bel upgrade a tutto quanto guarda che figata intervista con la cuffia ora si adesso perché ti spiego le mie domande sono difficili da ascoltare in cuffia quindi se non capisci quello che dico con te è ancora più difficile c'è un rebus praticamente uno risponde a qualsiasi cosa io stesso non mi capisco comunque non ti preoccupare io stesso non capisco quello che dico per cui non so se qualcuno mi dispiace per chi mi ascolta eccetera però guarda quando mi hai chiesto mi hai chiesto di fare il collegamento io sono stato molto felice perché guarda dal non capire tante cose che si dicono escono delle gran figate tra una chiacchiera e l'altra io seguo i tuoi post con molto molto interesse anzi guarda oggi pomeriggio mi stavo vedendo giusto la puntata con DJR molto molto interessante ah grazie io invece mi guardo le vostre pagine ho visto la tua e ho visto anche quella di Lord Madness e di altri ragazzi molto attivi e visto che l'hip hop lo fate tutti non è che lo fanno in quattro e bisogna bisogna chiedervelo a tutti perché ognuno di voi ha delle cose da dire e io spero solo di riuscire ad adesso ad includere tutti quanti di non dimenticarmi nessuno perché sai come sono già 49 anni la testa che va come va non posso neanche pensare di avere quella grande memoria enciclopedica per cui tu parlando e facendomi nomi di tanti tuoi colleghi mi ricordi anche ah devo parlare di questo ah devo parlare di quello devo approfondire quella cosa lì per capirene di più eccetera eccetera quindi adesso arriviamo fortunatamente fortunatamente da un sacco di anni questa roba qua tanti dicono che è morta si è spenta ma boh cioè io non riesco a vederla questa morte cazzo c'è sempre un casino di gente un sacco di amici con cui condividere paichi, microfoni beats e tante esperienze potentissime perciò tu quindi faccio sempre un po' le spallucce quando mi dicono sta roba si perché io vedo io vedo dai tuoi post e quelli di altri che ci sono sempre degli eventi ad esempio adesso è capitato qualche giorno fa su un post Juice Jam tu lì ci sei andato no? ecco mi racconti devo andare a luglio cazzo quella lì mi racconti un po' che cos'è una di quelle robe che per me cazzo leggevo solo sulle fanzine ci sono andato a home juice solamente ed era cazzo presente come arrivare nel paese dei balocchi una roba proprio cos'è sta cosa qui e cazzo mi hanno chiamato per partecipare per me certo e in quel caso la preparazione per eventi così prestigiosi come la svolgi il solito training di prendere la roba migliore che ho e comporre questo quadretto diciamo questo quadro incompiuto nel senso che prendo il materiale che in quel momento è quello che mi rappresenta di più della mia produzione e parto con il mio zainetto carico di figate dopodiché metà zaino lo lascio vuoto per poi arrivare lì e fare incetta di esperienze improvvisazioni varie e via dicendo e ritornare su con l'altro mezzo zaino carico che mi servirà per ripartire per la prossima avventura insomma per chi si chiedesse cosa sta succedendo questa è la seconda parte dell'intervista a Mastino che è stata divisa in due parti per questioni tecniche e anche per questioni d'immagine guardate qua che bello studione che c'ha eccola qua anni di attrezzatura accumulata con fatica il mio ampulino di divertimento perfetto adesso ti sei fregato con le tue mani perché adesso mi dici che cosa sono quelle cose che hai dietro perché sono lì e da quando è nato ad esempio che so il tuo primo amore per i giradischi o il tuo primo amore per il primo mixer che hai preso la batteria elettronica il campionatore eccetera eccetera ok allora andiamo in ordine partiamo da questo lato allora ho i due giradischi acquistati uno mi è stato regalato da un Gira un Tecnix da ascolto poi c'è questo mixerino che ho fregato a mio cognato coperto da una mitica maglietta regalata a uno dei miei figli ah ecco che tra le altre cose scusa sono anche quei bambini che ho visto in un video tuo esatto sì tre di quelli che hai visto nel video mio con Esa sono i miei non tutti non tutti ecco perché erano un po' tanti vabbè ci stiamo lavorando però per quello sarà necessario che qualcuno stacchi degli assegni mensili perché altrimenti non ci stiamo dentro però capisco poi abbiamo quest'altro stanton che invece mi è stato dico venduto ma praticamente regalato sempre dallo stesso cognato che mi ha un amplificatore che invece ho comprato io con tanta fatica un MPC 2005 nuovo acquisto recente arrivato direttamente dallo studio di Night Schemi per un prezzo veramente così interessante e poi abbiamo una mitica tasca un controller che mi fa anche da scheda audio e con il quale registro tutte le mie opzioni lì abbiamo un mixerino per il microfono per l'alimentazione phantom là nell'angolo e basta tutto qui c'è qualcuno che mi ha detto che mi vuole regalare anche un compressore io la tengo lì questa cosa vediamo cosa succede ma quindi tu prima di mettere il naso fuori di casa ti fai tu le tue basi sperimenti tu diciamo i tuoi beat crei il flow automaticamente posando la voce sulle cose che fai tu allora qui faccio degli esperimenti in realtà non mi sento ancora pronto per proporre i miei esperimenti all'esterno quelli da qua dentro diciamo che come ti dicevo già nella prima parte dell'intervista il mio è un approccio amatoriale alla cosa anche se mi piace comunque approfondire però anche per il tempo limitato nel quale mi ci posso dedicare alla produzione eccetera mi piace un sacco collezionare dischi ecco quello sì anche a me è una roba che è nata diciamo dai miei primi ascolti prima non collezionavo vinile collezionavo cd guarda puoi vedere forse se alzo un po' vedi là in alto ah bello bello e poi c'è dall'altra parte della stanza c'è un altro mobile che è molto molto pieno e ho cominciato così con i cd poi all'epoca di Bologna invece è nata questa passione per il vinile sempre dal mio coinquilino che saluto ciao Nico è nata la passione per il vinile poi ho cominciato a frequentare il tricks shop il negozio di goffer e via dicendo più i vari mercatini dell'usato perché attorno a casa mia quando abitavo in zona ospedale maggiore c'erano tre mercatini dell'usato nei quali facevamo con tanti dischi settimanali e ho cominciato a collezionare dischi a spaziare un po' di più tra i generi musicali soprattutto a scavare un po' nelle radici della musica italiana che conoscevo veramente poco perché mi ha sempre fatto gran lezzo come si dice in gergo invece poi ho scoperto che c'erano delle robe veramente veramente potenti nella nostra discografia è stato tutto molto interessante non intendi la roba mainstream o intendi le robe soul funk della discografia italiana o intendi anche quelle mainstream no intendo come ti dicevo ho questo amore viscerale per le strade poco battute quindi sono comunque tendenzialmente alla ricerca in quel filone lì per quello che riguarda l'italiano per esempio mi piace scavare nelle librerie di prog rock che era delle delle musiche che ascoltava mio padre ai tempi ma che io non riconoscevo mio padre era un grande ascoltatore delle orme per esempio ah sì sì beh quindi sì è tutta roba molto sono suoni vellutati strani armonie molto azzardate ricerche forse anche mi piace scavare nei nei compositori nostri più più celebri da che ti devo dire alessandroni piuttosto che insomma i compositori degli anni 60 hai capito che c'è una marea di creatività nascosta sotto uno strato molto spesso di mainstream che sembra tutto uguale l'unico esistente no sì esatto hai detto bene il tutto uguale a me il secondo ascolto di una roba che assomiglia all'altra mi ha già sfavato dopo 30 secondi molto onestamente poi mi piace invece però sentire l'ispirazione quello sì mi piace il fatto che se io ascolto una roba ci sento dentro delle altre robe che ho già sentito perché sento che c'è sopra della ricerca non mi piace sentire il faccio quello perché suona come certo il tuo primo timido approccio sul digging quindi è stato è stato come un amore a prima vista o è stato o c'è lo guarda tutta sta roba che devo ancora comprare no guarda la roba che mi è sempre piaciuta molto e che continua a piacermi adesso lo faccio in maniera un po' più consapevole sai perché a furia di scavare cominci a conoscere un po' gli autori piuttosto che le etichette piuttosto che prima avevo come dire queste andavo un po' con la cabala no cioè il disco che arrivava da me non ero io che andavo a cercare il disco e quindi mi piaceva molto questa roba magari io tornavo a casa con questi 10-15 dischi da 50 centesimi un euro l'uno che dovevo ripulire sai c'era tutto il rito della pulizia dalla polvere e via dicendo e poi quando finalmente mettevo sulla puntina e scoprivo che cosa era arrivato da me un po' per questa legge carmica mi chiedevo cazzo ma allora no sto suonando bene o non sto suonando bene per cui non mi è arrivato il disco giusto allora devo impegnarmi di più nella ricerca e nello studio di quello che faccio e vedrai che buona musica arriverà da sola queste cose che ti devono arrivare è un concetto ricorrente nella tua ideologia no non troppo di solito sono io che me le devo andare a prendere anche quando arrivano è perché ho fatto le mosse giuste per farle arrivare pensi che nel digging ci sia un elemento di fortuna ad esempio di difficoltà proprio per la grande quantità di cose e in questo senso ci sia in un certo senso una casualità oppure tu pensi che si possa essere degli ottimi digger avere un sesto senso per capire la zona cioè tu ad esempio riesci a capire se vado qua oggi anziché vado là perché il digging è una componente guarda no quello no nel senso che comunque dove vai vai capita dalla tornata di dischi che hanno sotto mano in quel momento poi invece ovviamente per scegliere fior da fiore lì ci va della capacità diciamo che puoi cercare di indirizzare bene questa fortuna però ovviamente poi anche le copertine più tamarre del pianeta e insignificanti possono regalare delle figate nascoste e allora parliamo un po' delle figate nascoste in ipnosi collettiva quante figate nascoste ci sono in ipnosi collettiva degne di mistero supremo ci sono molti riferimenti a pellicole conosciute e meno conosciute fai conto che il mio primo amore a livello artistico è stato quello del cinema io mi sono trasferito a Bologna per andare a studiare cinema e quindi diciamo che quest'arte la nobile arte ha un po' influenzato tutta la mia visione anche nelle cose che faccio adesso tutto lo storytelling nel quale mi cimento è sempre molto cinematografico per esempio uno degli ultimi che ho scritto sono due storie esattamente speculari alle quale per ritornare al fatto della fortuna ho chiamato questo storytelling ad un passo dal paradiso e nelle mie ricerche poi ho scoperto che c'era un film una pellicola sconosciutissima con questo nome che parlava dello stesso argomento perché praticamente è un attentatore che si fa saltare in aria mentre il mio storytelling è sia l'attentatore che non si fa saltare in aria e diventa un family man e viceversa il family man che diventa un attentatore e quindi insomma ipnosi collettiva è un po' pieno di questi riferimenti cinematografici anche nella copertina se tu vedi che richiama un po' essi vivono con tutte quelle facce un po' quasi da zombie e anche tutto l'immaginario diciamo post futurista steampunk e via dicendo anche quello è tutto preso da pellicole che mi sono piaciute un sacco per i fumè per i manga per esempio nella mia interpretazione magari anche sbagliata di quella che è il tuo il concetto espresso in ipnosi collettiva no? secondo te esiste proprio un'ispirazione o comunque un legame con quello che è il metodo contestativo che la vera cultura hip hop ha sempre avuto nei confronti della realtà mainstream? sì c'è c'è questa roba qui è innegabile un po' perché è quello che mi succede quando vado a scavare nelle librerie di musica molto spesso la musica che nella quale ritrovo come ti dicevo prima lo studio e l'ispirazione delle delle musiche precedenti un po' come fa un inventore un inventore non è che si sveglia la mattina e dice c'ha che invento un genere si rifà a tutta la gli ascolti precedenti e aggiunge il suo quando io sento questa roba qui solitamente l'ascolto non è tra le cose che vanno per la maggiore non lo escludo può capitare che ci sia questa cosa anche in una roba in una roba mainstream è difficile devo dire statisticamente difficile per quello che che posso vedere io ma sì come ti dicevo solitamente gli ascolti che mi capita di fare nel mainstream sono cose piuttosto semplici e semplificate proprio per questo per per attrarre diciamo così un po' quella è l'ipnosi secondo me certo e sì perché effettivamente io penso che almeno fin quando sono vissuto in Italia questo era un meccanismo molto potente quello di dimostrare cose estremamente semplificate non so anche l'informazione stessa la cavolata che disse Morgan in televisione dicendo che l'hip hop era nato nell'82 83 e che è nato nelle stanzette degli italiani o ad esempio le persone che ci dicono che l'hip hop è nato solo per far soldi no che è una è uno storytelling che è ovviamente una finalità specifica no tu in questo album hai voluto anche centrare questi argomenti cioè avevi avevi già chiara questa polemica o era molto diciamo il centro della tua polemica è un altro allora diciamo che avevo ben chiare queste cose e vediamo un po' fammi pensare allora c'è un un pezzo che si chiama inno nazionale personale che parla un po' di questo atteggiamento nei vari aspetti della vita non solo in quello musicale e che poi si riflettono anche nell'aspetto musicale ovviamente questo è il è il brano così come anche il brano che non c'è sul disco ma che si chiama ipnosi collettiva che io ho messo online prodotto da Staber questi sono i due testi che parlano in maniera più diretta di questa roba ovviamente il sottotesto è un po' presente ovunque no diciamo che sì la mia ricerca in questo momento è cercare di non escludere nessuna possibilità ok quindi se prima era un pochino più come dire no ok questa è la mia visione delle robe e quello che c'è lo vedevo proprio come una contrapposizione certo il lato opposto ora no cerco di cerco di non vederla come una contrapposizione ma come una parte del tutto certo nel senso che poi le robe che a me piace sostenere hanno un senso nel momento in cui il metro di confronto è quello lì no o quello lì insieme a tanti altri altrimenti rischio di cantarmela e suonarmela capisci cioè tu dici che vuoi prendere anche in considerazione quella che è la controparte cioè la parte che ti sta opposta e vuoi avere un atteggiamento più misurato e considerare tutto in un insieme dove ci sta un po' tutto per avere una visione più chiara e non vedere solo come contrapposizione cioè i giusti i buoni e i cattivi esatto allora diciamo che più che farci stare dentro tutto perché poi anche questa roba qui è rischiosa ovviamente certo più che farci stare dentro tutto ti direi di non escludere delle possibilità a priori solamente perché sembra che siano qualcosa capito perciò per dirti che ne so anche anche le robe che piacciono a me per dirti che ne so prendiamo l'ultimo caso Rand Jules ok Rand Jules ha delle sonorità che io fino a qualche anno fa avrei proprio detto no certo non riesco proprio a sentirle e invece girate in quella chiave lì di cui ti parlavo prima con dietro una ricerca potente delle motivazioni fondamentalmente per cui vengono fatte le robe per cui io ci sento dentro la potenza della motivazione certo quelle robe lì invece sono ottime sono veramente ottime perché riescono a mixare il lavoro di ricerca con il lavoro di di avanguardia o comunque di come dire di attenzione a determinate sonorità che possono attrarre così perché sembrano tu mi stai dicendo che con la creatività si riesce comunque ad interpretare anche un testo o un contenuto più commerciale in modo da farlo diventare qualcosa di più creativo di più personale di più indipendente dal mondo magari apparentemente mainstream da cui esso deriva assolutamente ci sono anche casi eccellenti allora diciamo che in altri periodi storici anche la musica che andava forte aveva un'ottima dose di creatività dentro penso solo per dirti non so prendiamo i Beatles i Beatles sperimentavano i primi videoclip perché avevano accesso a mezzi ai quali altri non avevano accesso ok piuttosto che non saprei dirti un nome qualunque dei dischi che anche tu puoi avere lì dietro ok perciò non vedo perché oggi non potrebbe esserci la stessa cosa io di fatti penso che sul commerciale il discorso è complessissimo no assolutamente le volte purtroppo almeno io quando parlo del commerciale sembra quasi che l'odi in realtà non è che l'odio è la sua prevalenza che mi dà fastidio il fatto che ci sia troppo commerciale quando invece sono convinto che ce ne deve essere una buona quantità perché giustamente se no non riusciremmo dare una visione libertaria a tutti i produttori perché c'è chi vuole veramente essere commerciale nella vita perché non dovrebbe esserlo nel senso sabato ma io riconosco che ci sono delle abilità anche in quello assolutamente io non riuscirei per dire a gestire un'esposizione di quel genere perché sono uno a cui piace anche un po' farsi i gazzi suoi ogni tanto perciò riconosco che ci va dell'abilità anche in quello cioè bisogna essere capace di farlo ecco e proprio legandomi a questo discorso io ho notato sentendo poi ieri con calma ipnosi collettiva che devo dire che è un lavoro incredibile a chi ha un suono che è veramente particolare e io vedo da discos qua che c'ho davanti che c'è il cd il vinile non c'è di quello? no ho intenzione di capire che fare perché secondo me se fai il vinile se vai il vinile fammi sapere come avere una copia firmata se possibile sicuramente perché ha un suono magari se ci vediamo da next one a qualche a qualche stage può darsi che te la passerò lì perché io da un paio di lavori a questa parte adesso sto stampando vinile a manetta cioè non faccio più cd o digital no no questo lo sapevo che tu preferivi scusa queste cose che vedo qua su discos cioè il primo album ipnosi collettiva il terzo e poi il singolo sono tutte cose che non sono mai uscite in digitale o sono uscite in digitale allora ipnosi collettiva anche in digitale sì cioè su iTunes cioè su l'avete dato in digitale cosa scusa? l'avete dato in digitale tu eri contrario cioè a te va bene no 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 non ero contrario anzi cioè non mi precludo questa cosa allora considera che il mio ragionamento è questo se devi stampare un supporto stampo un supporto che sia dentro quello che faccio ok quindi il vinile ovviamente con le basi quasi sempre quando ho stampato il vinile c'erano anche le basi in modo che il DJ possa prendere la doppia coppia e cattare per il suo anna ghiavou piuttosto se devo fare un formato stampo quello il digitale va benissimo perché io vedo tutti i miei ragazzi che si muovono con i telefonini cioè il supporto di ascolto è il telefono ok perciò poi se vuoi il CD ripati il digitale voglio dire c'è l'alta qualità no? quindi ripalo da lì e va bene così poi il digitale ovviamente è un modo di comunicare che è iperveloce velocissimo si fagocita più che ascoltare però insomma giusto stare al passo quei tempi imparare anche utilizzare i vari mezzi che vengono messi a disposizione certo io sono comunque sì sono impressionato anche da questa cosa dei telefoni non so a te quanto ti abbia segnato questa cosa perché tu non sei nato con questo mondo no? no per niente sei nato prima quando non c'era ancora tutta questa questo telefoname sparso sì adesso guarda infatti è una cosa che sto cercando perché purtroppo la cosa per me si sta ibridando nel senso che quando sono in giro è anche un mezzo per poter lavorare scrivere mail e via dicendo certo devo stare all'occhio con quella roba lì perché poi significa essere sempre immediatamente raggiungibile ed è una roba che non ti piace no non amo molto sinceramente anche perché io sono sempre stato convinto che vabbè questo è un cosa molto generale che un artista con la maiuscola e io penso che esistano e che sia una definizione legittima debba avere i suoi momenti di isolamento totale perché è proprio nel vuoto che uno rispecchia la sua arte secondo me cioè non è nello stare sempre cioè lo stimolo certo è importante però è anche importante poi rimettere a posto le cose rispecchiarle vederle capirle guardarle da un punto di vista almeno io certo sì il momento di rielaborazione del materiale è fondamentale anche proprio nell'approccio che io ho alla scrittura solitamente se scrivo una roba di getto comunque almeno una revisione gliela do prima di mandarla in studio perciò sì effettivamente il momento di meditazione è essenziale prima e dopo la battaglia quindi arriviamo a drum machine che ho sentito con molto interesse drum machine tu confermi che a differenza del lavoro precedente mostra diciamo un lavoro diciamo sui testi più maturo c'è un'evoluzione oppure è semplicemente una continuazione allora io non riesco a vedere dei grossi stacchi nella mia produzione nel senso che ovviamente ci sono coinvolto in pieno li vedo un po' a posteriori i salti i salti qualitativi però c'è chi dice che i rappers continuano a scrivere sempre lo stesso testo gli autori continuano a scrivere sempre lo stesso testo sì io la vedo molto così sta di fatto che magari mentre scrivi ti accorgi che certi meccanismi diventano automatici perciò secondo me il lavoro che abbiamo fatto su drum machine è qualitativamente alto ma il tempo che ci abbiamo messo per farlo è molto breve considera che il disco è stato concepito scritto e lavorato nel giro di una settimana ok quindi tra la scrittura quando dici concepito la produzione delle basi è tutto in una settimana sì alcune basi se non sbaglio due o tre bit erano già stati fatti e noi siamo andati a sceglierli e poi da quelli è nata l'atmosfera generale del disco e da quelli poi Apoch è partito per produrre gli altri quindi abbiamo scelto i primi tre così in maniera istintiva e tutto il resto è venuto di conseguenza proprio perché in quel periodo io avevo un periodo particolarmente come dire favorevole a lavorare con i ragazzi a stretto giro Blobì uguale Apoch è venuto per tre giorni e abbiamo lavorato in maniera pesante proprio full immersion figurati che anche quando io ero al lavoro ci mandavamo le strofe con Blob via Whatsapp ce le cantavamo ci facevamo sentire la roba e poi ci ritrovavamo quelle 4-5 ore al giorno per registrare ragionare sui pezzi e via abbiamo chiuso tutto in maniera molto molto breve questa formazione tu la vedi anche per il futuro c'è una formazione che è già ormai collaudata e con cui ti trovi insomma a tuo agio ti muovi artisticamente in maniera da sentirti scorazzare liberamente non hai vincoli no assolutamente anzi guarda la figata è che posso chiamarla la mia crew perché comunque veramente abbiamo avuto delle esperienze assieme di live poi dopo il disco ma anche durante durante insomma la gestazione del disco ci siamo sempre trovati molto bene con i limiti di ognuna delle persone con i modi di fare che abbiamo comunque limato perché siamo tutti abbastanza maturi per poterlo fare certo e ti devo dire che sicuramente tornerà la formazione così come anche sicuramente ognuno di noi baderà i propri lavori solisti ed è la prima volta che mi capita di farlo senza conseguenze questa cosa perché prima di ci sarà avrebbe costituito un problema a livello di pubbliche relazioni tu dici sì è successo varie volte nel come dire nel mio passato che comunque quando in maniera più marcata quando meno queste diciamo queste questi allontanamenti hanno hanno dato delle conseguenze in qualche maniera nel rapporto con le persone pensi che sia normale nel mondo dell'hip hop che ci siano scambi di partnership eccetera assolutamente penso che sia fondamentale cioè non lo so allora così come così come ci sono le mega crew come il Wu-Tang che sono una figata e che sono un po' il sogno di tutti che durano una vita certo esistono anche tantissime collaborazioni anche all'interno di crew del genere no? certo guarda non so per dire Reza che fa un album con tutto il mondo per dirne una così come è giusto che ognuno come dire coltivi il proprio percorso artistico poi anzi secondo me è proprio una ricchezza poi quando vai a rimettere il lavoro insieme ognuno porta la sua esperienza il suo stile all'interno di un discorso più ampio ed è una figata perché se fossimo tutti con lo stampino la roba non andrebbe bene probabilmente in passato stavamo ancora un po' tutti studiando noi stessi e quello che ci ci condava per poter fare un discorso di questo tipo certo quindi tu dici che dal non so già dal secondo il terzo prodotto al terzo album tu ti vedi più aperto nei confronti del mondo e la possibilità quindi di intrecciare diverse svariate esperienze lavorative ho imparato ad esserlo e allora già da prima considera che venendo da un piccolo paese di provincia dove non c'era nessuno che faceva sta roba la mia mentalità era già diretta diciamo verso questo indirizzo nel senso che comunque gioco forza se volevo farlo dovevo collaborare con qualcuno e andare a conoscere in giro le persone e via dicendo c'è stato un periodo proprio i periodi in cui invece cominciavo a formare i primi legami le prime crew vieni qua dai un salutino ciao ciao come stai? bene ah come ti chiami? Ryan Ryan io sono Paolo piacere di conoscerti Ryan ah? vai a fare la pappa dai ok fai una buona pappa ciao ciao ho là sto facendo un'intervista tesoro poi arrivo anch'io chiudi la porta grazie ti stavo dicendo proprio nel momento in cui formavo le crew questa roba qui veniva un po' a cadere perché mi sentivo un po' nel mio ambiente familiare quindi pensavo che tutto tutto potesse andare in quella direzione forse anche un po' per questa per questa mia esagerazione poi quando era il momento di aprirsi verso altre cose le robe non andavano sempre benissimo no? però niente no poi ho scoperto che è fondamentale poi ho scoperto le band gli strumenti ragazzi e lì come è stato l'amore cosa è successo dalla prima scoperta diciamo la consapevolezza di poter usare queste cose cosa è successo in pratica? ti parto degli albori ma molto velocemente arrivo al giorno d'oggi considera che al liceo quando si faceva musica c'era sempre la band di persone con le quali provare a rappare però va tutto un po' rage veniva un po' tutto rage against the machine invece poi quando ho cominciato a conoscere i primi strumentisti veramente coi contro lì ho cominciato a capire che si poteva fare di tutto per esempio una delle robe più forti che mi ricordo di aver fatto è stato un open stage gestito da gopher con Bruno Brischik che suonava il basso e altre persone sugli strumenti e si gemmava proprio palco aperto con la band che improvvisava e ognuno saliva e faceva un po' quello che gli pareva quando ho fatto quell'esperienza lì proprio viaggio senza ritorno sono sempre andato a cercare cose di questo tipo fino all'ultima comparsa sul disco dei Black Beat Movement dove ho fatto una strofa e loro hanno suonato tutto io sono io vedo che c'è un'affinità enorme tra il mondo diciamo artistico che tu esprimi e quello di Schiso e quello di altre culture diciamo no cioè date un'importanza estrema come tra altre cose anche io alla musica intesa anche in senso di performance specialmente tu hai nominato la differenza tra musicisti capaci e musicisti meno capaci tu tu quindi mi confermi che nel momento in cui hai scoperto dei musicisti molto capaci hai capito la possibilità di lavorare con loro per poter esprimere mille cose diverse e quindi esplorare campi che effettivamente possono essere diciamo sconfinati sconfinati intenso di qualità certo infatti guarda ti dico la verità le robe le robe migliori secondo me sono uscite quando nessuna delle due parti ha cercato di forzarsi in direzione dell'altra ok cioè gemmiamo ok fate quello di cui quello che vi riesce meglio e io faccio quello che mi riesce meglio e vediamo se le cose possono andare ti accorgi che a un certo punto le cose vanno da sole certo nessuna delle due parti ha bisogno di di forzarsi o di far andare le cose è un unico cuore capisci che comincia a battere mi fa piacere ciao ciao tu saluto ogni tanto non ti preoccupare ok va bene bellissimo va bene guarda io sono molto contento della chiacchierata che abbiamo fatto ho raccolto veramente un sacco di informazioni se c'è ancora qualcosa che tu vuoi dire in relazione ai progetti attuali ai progetti futuri alle jam che tu adesso visiterai alle esperienze che farai coi colleghi diciamo se c'è qualcuno di grosso con cui collaborerai in futuro eccetera allora guarda ti dico due robe in cui sono completamente assorbito in questo momento che sono i miei quattro EP ispirati dagli elementi uno è già uscito quello con F Fiume il prossimo sarà con Herrera che è un beat maker di Pisa molto capace e gli altri due allora ognuno degli EP è associato a un elemento naturale e a una disciplina dell'hip hop ok quello con Fiume era fuoco questo con Herrera sarà acqua poi ci sarà terra con DJ Ugly che è il mio DJ storico e l'ultimo di Aria con Ice One questi EP dovevo farli fuori tutti in un anno ma poi ho deciso di infilarci dentro il progetto Drum Machine ho deciso di infilarci dentro un migliaio circa di strofe con amici e la questione Straight Arts Academy e quindi diciamo che si sono un po' dilungati sono un po' spalmati nei tempi però non li ho persi di vista anzi acqua è in fase di ultimazione e questo è il primo progetto nel quale mi sto buttando il secondo è quello che hai visto alle mie spalle ieri che è la Straight Arts Academy ovvero lo studio della possibilità di utilizzare le discipline dell'hip hop in maniera pedagogico formativa ed è una roba che mi sta assorbendo totalmente perché è anche quella una strada secondo me poco battuta e che in realtà ha dei risvolti veramente potentissimi non lo dico io me lo dicono le persone con le quali lavoro sono dei pedagogisti professionisti che hanno studiato per fare quella roba io diciamo che arrivo dall'altra parte del discorso io ho avuto l'occasione di farlo in maniera pratica prima che teorica e poi quando ho incontrato chi lo fa in maniera professionale mi hanno detto ah cavoli ma con le cose che fai le cose che dici tu citi delle teorie pedagogiche che sono veramente all'avanguardia io ho detto bene non ne ho mai sentita una mi fa molto piacere quindi adesso cerco di dare un po' come dire un rinforzo a questa parte di lavoro che mi piace molto e che mi permette di fare guarda mi ricollego all'ultima cosa che stavano dicendo ieri tu mi chiedevi come ti prepari ai live agli eventi in questa maniera qua cioè io cercando di trasmettere questa roba in maniera sistematica ho a che fare con le nuove generazioni con persone forti con il fatto di dover trasmettere delle robe alle quali io tengo tantissimo magari in un contesto di persone alle quali di quello che faccio me ne frega una mazza e mi prepara tantissimo questa roba che mi fa confrontare faccia a faccia con il potenziale pubblico con i potenziali fruitori delle robe che faccio perciò insomma alla moddi se c'è la signora in piazza sul balcone che sta stendendo i panni io devo andare a beccare la signora in piazza che sta stendendo i panni ho capito a che punto siamo con questa academy quali sono gli stage ancora previsti cosa cosa ne uscirà alla fine in pratica potrò venire anch'io a imparare non lo so allora guarda essendo un ente che si occupa di formazione a me interessa che ci siano delle persone che vogliano formarsi in primis ok io ho bisogno di formarmi perché una delle robe che abbiamo messo ad esempio è la capacità di andare a scavare tra le fonti in magnetà ok e io questa roba la sto studiando ho fatto giusto un episodio adesso che si chiama l'importanza delle fonti ma vabbè prego ok si ho visto il titolo ma non l'ho ancora visto stasera me lo vado a guardare stasera me lo vado a guardare per dirti mi interessa che ci siano delle persone che si vogliano formare e che vogliano formare gli altri no perché poi ho scoperto che questa roba qua può essere usata in una marea di ambiti diversi per esempio anche nel team quello che interessa a me non è cercare il nuovo pupillo che faccia l'eminem di turno no cioè mi piace quando uno è bravo e sviluppa una passione allora io ti do tutti i mezzi per poterla sviluppare insomma nella maniera migliore o comunque in un ambito che ti faccia fare delle esperienze buone così come mi interessa questa roba utilizzata anche un po' fuori dal contesto per esempio per lavori di team building tu porti l'esempio della crew o di un DJ e di un MC che collaborano per produrre una roba nuova e questa cosa qua forma le persone quindi questa roba qua serve per passare dei messaggi molto difficili complessi anche un po' pallosi in maniera divertente che è una roba insomma forte una roba potente capito e niente a che punto siamo siamo già costituiti legalmente da un paio d'anni da quest'anno mi sono dovuto anche accollare la carica di presidente perché il nostro ex ha deciso di fare le valvole nella vita che ci sta per carità bella lì quindi da quest'anno io ho questa carica l'ottica è quella di trasformarci in cooperativa cioè di procacciare il lavoro e crearlo per altre persone quest'anno considera che tra tutti i laboratori che abbiamo gestito come associazione tutte le iniziative abbiamo svolto il ruolo di tecnici in 7-8 persone se non sbaglio possiamo citare le persone che al momento ne fanno parte ok allora il CDA è composto da me dal vice presidente che è Pange di Serious Thing il il sound del Leon Cavallo c'è DJ Vigor c'è Valentina V2V c'è Fuji c'è Sick Bud c'è le led dei numeri 2 insomma siamo tutti artisti alcuni di loro fanno anche gli educatori Resmo per esempio ha Team Public che è un writer anche lui fa l'educatore insomma il CDA è composto da queste persone e poi ci sono una serie di persone che fanno parte dell'associazione i soci come ad esempio Lino Speranza che è un bboy come ad esempio Davietto Farmbeat che ci aiutano sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista insomma degli agganci e collaboriamo con una serie di persone che sono un po' tangenziale all'associazione l'idea è proprio quella di costituire un nucleo di persone solido alle quali piaccia fare questa roba qua diciamo un po' tutti lo facciamo in maniera un po' istintiva lo scopo è quello di dare una forma a questo istinto di farlo in maniera seriale per produrre delle robe potenti perché poi alla fine quello che ne esce sono delle feste della Madonna delle conferenze incredibili come quella che abbiamo fatto a ZAM per esempio sul diritto d'autore sul diritto alternativo d'autore dove hanno partecipato anche i ragazzi di Control mi sembra che ne ho vista una però non so se era la vostra dove spiegavano all'interno ad una comunità hip hop i diritti connessi i diritti di composizione eccetera queste cose tu sei esperto tra l'altro per la legge inglese però non per la legge italiana però immagino che siano molto simili perché sono risultati di un'armonizzazione di direttive di una comunità europea che tra poco non ci sarà più esatto diciamo senza la mena polemica vabbè però sai anche lì effettivamente andare a studiare anche i sistemi anzi la figata di studiare un sistema diverso da quello che si conosce è proprio quello di prenderne le parti buone e annetterle poi alla prassi no? sì sì è il metodo scientifico come si dice è il metodo scientifico cioè vedere quello che non è come quello che tu conosci e poi alla fine è implicito che nella tua testa anche non volendo cerchi di istituire paralleli e paragoni tra le due cose va bene guarda io sono felicissimo di questa chiacchierata non so se c'è ancora una cosa che vuoi dire per tutti che non abbiamo coperto o che io ho avuto l'amalaugorata idea di non chiederti se no guarda direi che ho detto tutto il fatto di ascoltare sempre tanta buona musica e di come dire farsi del bene vivendo in mezzo all'arte alle robe positive penso che sia insomma che sia passata per tutta l'intervista spero almeno che sia passata per tutta l'intervista no 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 devo dire che ho avuto un'impressione di vitalità e di attivismo incredibili cioè ho fatto un album in una settimana hai dei fai fare i 4 EP cioè voglio dire non so fanno i 10 visto che ci sei quasi prendo prendo come buono il tuo consiglio poi tra l'altro quest'anno sono andato anche a tampinare Next per provare a fare delle robe in combo vedremo cosa succederà nel futuro beh allora tienici aggiornati e se poi è il caso di fare un update lo facciamo io lo faccio molto volentieri perché il fatto che abbiamo chiacchierato una volta non vuol dire che è il prossimo anno o quando c'è una cosa importante che tu vuoi dire non sia possibile ecco a me fa sempre piacere ricevere grazie per l'invito è stato veramente un piacere io ti ringrazio e ti auguro un meraviglioso weekend e mi raccomando tienici aggiornato va bene grazie a mille ciao ben ben in red grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti